L'ennesimo caso di violenza sessuale o almeno così sembra stando racconto fatto da una ragazza canadese di 22 anni che l'altra mattina all'alba si è presentata al pronto soccorso di Rimini denunciando di essere stata stuprata in spiaggia ricciola. Ma ora sembrerebbero esserci delle forti incongruenze tra il suo racconto i primi riscontri della polizia scientifica eseguiti lunedì mattina sul luogo della presunta violenza sessuale. Le analisi effettuate all'ospedale di Rimini avrebbero escluso elementi che possano ricondurre ad una costrizione fisica mentre l'esame del sangue per accertare se la giovane avesse abusato di alcolici è risultato positivo con un tasso di 2,5 grammi per litro. La 22enne canadese come riporta il quotidiano online Rimini Today ha un passato di tossicodipendenza ed era ubriaca quando nella notte tra domenica e lunedì girano in spiaggia. Secondo quanto accertato dagli inquirenti della squadra mobile e della polizia di stato le telecamere che sorvegliano il bagno 64 dove sarebbe secondo la 22enne avvenuta la violenza l'avrebbero ripresa mentre camminava mano nella mano con un ragazzo. È stata la presunta vittima a dare l'allarme quando nel cuore della notte è tornata nell'albergo di Riccione dove alloggiava con un gruppo di coetanei e tutor per seguire un programma di studio e a quanto si è appreso di disintossicazione grazie ad una borsa di studio. La studentessa si è presentata nella struttura ricettiva senza pantaloncini e slip e poi ritrovati tra le cabine e in stato di shock. Accompagnata dal pronto soccorso del Ciccarini quando ha raccontato dello stupro è stata poi trasferita all'ospedale di Rimini con i medici che hanno allertato la polizia di stato. La 22enne ha ribadito di essere stata violentata al momento sono ancora in corso le indagini per verificare il suo racconto ed individuare il ragazzo con cui è stata ripresa dalle telecamere. Oltre agli slip della vittima sparse sulla sabbia tra le cabine e i giochi per i bambini e gli esperti della scientifica hanno repertato anche delle monete straniere preso probabilmente appartenenti alla 22enne sparse ovunque mozzicone di sigarette. Nonostante la fine della stagione estiva e relativo rumore notturno i residenti della zona non hanno sentito urla provenire dalla spiaggia nella notte appena trascorsa anche se qualcuno ha aggiunto che quel tratto di lungomare non è tra i più sicuri in questo periodo dopo il tramonto del sole.